Due anni fa, durante il Grande Fratello Vip6, i concorrenti avevano parlato di una stanza del piacere per praticare autoerotismo. La rivelazione era stata fatta dagli stessi Geffini durante una cena, dopo una richiesta avanzata da Alex Belli. La richiesta l'anno precedente era stata fatta da Andrea Zelletta dopo il prolungamento, ma era stata respinta dagli autori. La stessa richiesta durante il GF Vip6 era stata presa in considerazione dopo che ad avanzarla era stato Alex Belli. La prima a parlarne era stata Manila Nazaro, il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini. Francesca Cipriani non si era lasciata scappare l'occasione e aveva detto dove Giucas può andare con Federica. Ma dopo quell'edizione sembra che il Grande Fratello non abbia più messo a disposizione la stanza. E così anche lo scorso anno erano saltate fuori delle indiscrezioni sui concorrenti che praticavano autoerotismo. Con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo utile solo per passare le giornate qui dentro. L'ultima volta ci ho litigato per questa cosa. Si è incazzasteriscoata tanto, poi va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola, aveva detto Daniele dal Moro Palandi di Oriana. Quest'anno l'argomento non era ancora saltato fuori ma ci ha pensato Dejanira Marzano. Stanotte sotto le coperte Sergio stava facendo un solitario ed è stato scoperto perché lo faceva nel sonno e faceva strani versi. Ovviamente la diretta è stata staccata. Comunque non è il primo ti posso dire per esperienza che lavoro dietro la camera sono anni che accade, ha rivelato qualcuno che evidentemente lavora al Grande Fratello. Il concorrente è stato beccato in flagrante mentre stava praticando un atto di autoerotismo nella sua camera. Quando la regia, che naturalmente è online 24 ore su 24, si è resa conto della scena decisamente ambigua ha poi rimediato staccando l'inquadratura della camera in cui si trovava Sergio per inquadrare altro.